Rimaniamo in argomento, tanti gli ospiti di prestigio come il presidente della Camera di Commercio Ferruccio Dardanello e il presidente del Consorzio di Tutela del Bra di OP Franco Biraghi alla tre giorni enogastronomica di Braas al movicentro della capitale del Roero. E' stata un successo la prima edizione del Festival della Salsiccia di Bra che da venerdì a domenica ha accolto in un movicentro allestito a festa migliaia di persone giunte da tutto il Piemonte e oltre vediamo le immagini per assaggiare i piatti preparati live dagli chef stellati godere delle eccellenze locali e delle opportunità in calendario per scoprire la città e i suoi talenti. Per tutta la durata della Kermes non è mancata la nota di folklore ad opera della confraternita della Salsiccia di Bra nata per promuovere e valorizzare un'eccellenza della cultura gastronomica. Tradizionale o rivisitata la Salsiccia di Bra è una delle migliori in assoluto narra una delle leggende nate attorno a questa golosità che a tentareva fu proprio lei la Salsiccia di Bra. Siamo qui al movicentro all'ultimo giorno della manifestazione il Festival della Salsiccia di Bra. È stata una manifestazione strepitosa soprattutto ha premiato chi ci ha creduto chi si è impegnato tanto per la realizzazione di questa struttura che è magnifica. Ero con i miei due colleghi con cui ho un rapporto bellissimo Davide Palluda e Maurizio Garola. Abbiamo fatto dei piatti con i prodotti del Festival soprattutto la Salsiccia ma anche il braduro del Consorzio, il riso carnaroli del Consorzio e poi la verdura degli orti e la focaccia di panettiere. È stata una tre giorni intensissima, di grande successo oltre ogni aspettativa. Ha premiato chi veramente si è impegnato in tutto questo. Un successo strepitoso per la prima edizione di Brass. Al di là di ogni aspettativa e delle attese, devo dire che abbiamo riscontrato nei giorni di Brass un grandissimo entusiasmo, una voglia di degustare, di assaporare piatti di altissima qualità, di vedere tutto l'allestimento che c'è stato in questo splendido movicentro. Siamo veramente molto molto contenti, credo che l'evento potrà crescere negli anni. Attraverso questo evento verranno valorizzate tutte le eccellenze della città di Brass e non solo perché queste eccellenze lo meritano, in particolare la Salsiccia, il pane, la focaccia di Brass, il Brass tenero, il Braduro. Ecco, veramente un gemellaggio di prodotti che può andare al di là di quello che è un territorio locale e valorizzare sempre di più quella che è un'enogastronomia sempre più conosciuta a livello internazionale.